Io darei subito la parola al primo dei presentatori che, come vi diceva il professor Barbujani non è riuscito a venire perché si è ammalata, ma noi abbiamo un paleoantropologo di fama internazionale alla sapienza che è il professor Giorgio Manzi, che ci racconterà da dove veniamo e ci racconterà l'evoluzione umana, come avrebbe dovuto fare il professor Barbujani. Prego. Buongiorno, dicevo. Cominciamo dall'inizio, ovvero dal passato. Cerchiamo di vedere insieme brevemente cosa ne sappiamo oggi della nostra storia nel tempo profondo, che è un modo, io penso, anche per capire meglio chi siamo e qual è il nostro posto nella natura. Quindi è una biologia rivolta al tempo antico, un tempo molto antico, che però poi ha ovviamente delle conseguenze, tutte le possibili conseguenze nel presente. Una di queste conseguenze è il fatto che noi siamo delle scimmie. Siamo una delle 400 specie viventi di scimmie. Sono 400 di specie e una di queste si chiama Homo sapiens. Non c'è la scimmia, come il cavallo, il cane, la formica. Ci sono le scimmie e c'è una grandissima variabilità di esseri viventi che ci assomigliano in qualche modo, perché hanno le mani, perché hanno la vista stereoscopica, perché si muovono in maniera bizzarra. E noi siamo tra loro nel gruppo di quelle che vengono chiamate scimmie catarrine, che non vuol dire altro che le scimmie che vivono nel vecchio mondo. Io intendo l'Africa e l'Asia, fondamentalmente come una piccolissima eccezione a Gibraltar, dove ci sono le bertucce. Questo tipo di inquadramento della nostra specie all'interno dei primati è roba vecchia. L'aveva compreso molto bene tanti pensatori dell'antichità, ma poi l'ha formalizzato un certo Linneo, che voi come ben sapete è quello che ha costruito il sistema di classificazione zoologica e botanica che tuttora utilizziamo. I primati si chiamano così proprio perché dentro, tra loro, c'è una specie, la specie eletta, cioè Homo sapiens, i primi della classe in qualche modo. In realtà i primati sono animali molto poco specializzati, non hanno primati particolari da rivendicare, se non il fatto che, in maniera un po' antropocentrica, tra loro ci siamo noi. Ora, tra i primati, come avete visto in quella classificazione, tra le 400 specie di primati che esistono oggi al mondo, ce n'è un piccolo drappello, purtroppo tutte specie a minaccia di estinzione, che chiamiamo scimmie antropomorfe, non a caso, sono quelle che più ci assomigliano, sono gli orangutanghi, i gorilla, gli scimpanzei, punto. Queste sono le grandi antropomorfe, poi ci sono le più piccole che sono i gibboni. Ora, questo è il gruppo di parenti stretti che noi abbiamo su questo pianeta. Non so quanti di voi sappiano che, per esempio, condividiamo il 98,5% del DNA con gli scimpanzei. Quindi noi siamo praticamente, come ha scritto Jared Diamond in un famoso libro di qualche anno fa, il terzo scimpanzei. C'è il pantroglotites, il pampaniscus e poi c'è Homo sapiens. Addirittura dei miei colleghi un po' provocatori ritengono che gli scimpanzei vadano inclusi all'interno del genere Homo. Tanta è l'affinità genetica. Anche se, lasciatemi dire che affinità genetica in termini puramente quantitativi non esattamente corrisponde a delle differenze morfologiche invece che, insomma, palesemente ci sono, per non parlare di quelle culturali. Quindi quel poco e quell'1,5% che distingue me da uno scimpanzee forse nasconde qualche trucco, qualche sistema per far sì che noi siamo qui a raccontarci la nostra storia, mentre gli scimpanzei questo non lo fanno. Ora, il compito del paleoantropologo, quale io mi diverto a essere, è quello di andare a cercare quello che i nostri mestri dell'Ottocento chiamavano l'anello mancante, cioè quel raccordo tra noi e, appunto, le scimiantropomorfe. Era un'idea di anello mancante tutta ottocentesca, del tutto superata naturalmente, che però alludeva al fatto che nell'Ottocento non se ne sapeva niente della nostra evoluzione. Non si sapeva quale legame ci fosse esattamente tra noi e gli scimpanzei, i gorilla, gli orangutani. Si sapeva solo che loro sono molto simili a noi e che la loro somiglianza alludeva chiaramente a un antenato nel tempo passato, nel tempo profondo, capace di ricongiungerci definitivamente a loro. Il compito della paleoantropologia, che proprio a metà dell'Ottocento inizia la sua storia, con la famosa scoperta dello scheletro nella valle di Neander, chi è che non conosce il Neandertal, il primo Neandertal, che appunto lì viene scoperto, è una scoperta del 1856, ed è che siamo proprio a metà dell'Ottocento, quando quello viene per la prima volta a rappresentare un possibile anello mancante o comunque una forma di vita estinta molto simile a noi, ma al tempo stesso sufficientemente diverso da richiedere una denominazione di specie differente, non Homo sapiens, ma Homo Neandertalensis. Però quel fossile lì in realtà non rappresentava abbastanza bene il sogno degli evoluzionisti dell'Ottocento, non era l'anello mancante che andavano cercando, loro cercavano quello che un morfologo tedesco chiamò il pitecantropo, cioè piteco vuol dire scimmia, antropo vuol dire uomo, quindi veramente una specie di via di mezzo tra le scimmie non umane, i primati non umani e l'uomo. i Neandertal, il Neandertal e poi gli altri Neandertal che sono stati scoperti non corrispondevano a questo requisito. Troppo simile a noi, troppo grande quel cervello per poter rappresentare la via di mezzo, diciamo così, tra noi e loro. Fortunatamente dal 1856 è passato un po' di tempo e soprattutto la paleoantropologia ha fatto progressi straordinari, tanto da coronare, anzi, con generosità, coronare il sogno dei biologi evoluzionisti dell'Ottocento perché di anelli mancanti, se così vogliamo continuare a chiamarli, ma insomma è chiaro che il termine è assolutamente improprio, si sono stati trovati tantissimi. Questo è il quadro, diciamo, molto schematico, ovviamente, di quello che noi oggi sappiamo della nostra storia, una storia che pesca nel tempo profondo fino a verso i 6-7 milioni di anni fa e che è fitta di anelli mancanti, come ne abbiamo chiamati prima, per meglio dire di specie estinte in qualche modo legate alla nostra storia. Venti circa. Venti specie che rappresentano forme umane, umanoidi, insomma, parenti nostri più stretti di quanto non sia lo scimpanzè e tutti estinti tranne noi, Homo sapiens. È una storia, come vedete, ricca, complessa e ramificata. Dunque ci mettiamo una bella croce sopra a quella specie di sfilata di ometti, omini, scimmiette, scimmioni che tipicamente i giornali ci propinano quando si parla di evoluzione umana. La nostra storia non è una storia sequenziale, non è una successione di specie una pressa all'altra, ma è quello che molti di noi si sono abituati a chiamare il cespuglio dell'evoluzione umana. Tanto è ricco, tanto è complesso questo fenomeno. Abbiamo ovviamente poco tempo, è chiaro che per parlare adeguatamente di tutta questa roba ci vogliono alcuni mesi. Non staremo qui alcuni mesi, ma magari tornate un'altra volta. Intanto però vediamo molto, molto schematicamente quello che pensiamo di sapere oggi sulla nostra storia. È una storia che inizia qui, in Africa, in Africa orientale per la precisione, dove c'è una grande frattura tettonica che tutti conoscete come Rift Valley. È un sistema di fratture tettoniche gigantesco, che addirittura non è solo africano, inizia nella valle del Giordano, in Israele, e poi segue tutta l'asse del Mar Rosso. Il Mar Rosso stesso è la traccia evidente di questa frattura che separa due grandi zolle tettoniche e poi si infila questa frattura tettonica nel territorio africano attuale e sta iniziando, per così dire, a separare l'Africa orientale dal resto del continente. E questo processo è iniziato molti milioni di anni fa e tuttora mostra come una specie di lunga, grande ferita nel territorio dell'Africa orientale che oltre che essere una ferita, diciamo così, cioè una depressione lunga centinaia, centinaia di chilometri, migliaia di chilometri, è anche un qualcosa che ha saputo, potuto modificare il clima in quell'area dell'Africa. Non so se avete mai guardato bene a una cartina geografica dell'Africa, una cartina magari a falsi colori in cui sono rappresentate le vegetazioni. E vi potrebbe aver sorpreso il fatto che se guardiamo all'Africa equatoriale, cioè l'Africa più calda, più umida, quella dove ci sono le grandi foreste, in realtà queste grandi foreste ci sono soltanto a ovest, per un grande area del territorio africano. Ma quando si arriva verso la Rift Valley, che è quella roba segnata lì in arancione, le foreste incominciano a diminuire progressivamente, si frammentano, si fratturano e poi addirittura scompaiono. e andiamo nei grandi territori di savana aperta, come quelli che vediamo nei documentari, parole evocative sono serenghetti, queste grandi pianure con praterie intervallate da alberi isolati o da piccoli residui di foresta. come mai? A parità di latitudine qui c'è foresta equatoriale e qui invece c'è savana. È proprio la Rift Valley che in qualche modo ha contribuito, perché intorno alla Rift Valley sono comparsi montagne piuttosto elevate al suo occidente e queste hanno impedito nel tempo ai monzoni atlantici di innaffiare per così dire, così come fanno a occidente anche la parte orientale. E poi la presenza stessa di questa specie di grande frattura, di questo enorme gigantesco canyon che va appunto dalla regione dell'Afar fino al Malawi fa sì che lì si infilino monzoni invece di origine asiatica più caldi. E quindi da un lato c'è meno acqua che arriva con la pioggia dall'Atlantico e dall'altro c'è come un phon caldo che asciuga quest'area in modo differenziale. Questo fa sì che da quelle parti non ci siano le foreste come ci sono a occidente ma ci siano invece delle savane. E questo fenomeno, questo processo è parte di un fenomeno molto più grande che è di tipo planetario e che ha a che fare con questa curva climatica che vedete rappresentata qui dove si vede che nel passare del tempo negli ultimi milioni di anni che i numeri che sono là sotto sono milioni di anni fa il clima si è progressivamente deteriorato fino ad arrivare a quei picchi verso il basso che vedete a partire da un milione di anni fa in poi che sono le famose glaciazioni le glaciazioni quaternarie le glaciazioni dell'ultima parte del plestocene le glaciazioni appunto periodiche periodichi picchi freddi dell'ultimo milione di anni intervallati da altrettanto lunghi periodi interglaciali come quello nel quale viviamo noi ora tutto questo mescolando questi due elementi cioè un fenomeno di natura globale il cambiamento delle temperature e quindi del clima e il fenomeno locale dovuto alla presenza della rift valley ha fatto sì che in africa orientale si creassero delle condizioni del tutto particolari dove scimi antropomorfe simili agli attuali scimpanzee abbiano avuto il tempo le occasioni diciamo così adattative ambientali climatiche e quant'altro per potersi progressivamente adattare a un ambiente nuovo l'ambiente nuovo era stato dapprima delle foreste frammentate e poi le savane e così che si sono sviluppati i primi nostri antenati sono quelli che comunemente sentite chiamare australopithecus ma non c'è solo l'australopithecus tra cui il più famoso reperto fossile è certamente quello scheletrino trovato negli anni settanta in Etiopia che si chiama Lusi che non conosce le parole Neandertal o Lusi sono le più evocative diciamo così del campo della paleoantropologia e tra Lusi e le sue sorelle sono il gruppo di scimmie antropomorfe bipedi che rappresentano i nostri enti estinti più remoti nel tempo e anche nella morfologia li vedete rappresentati da questo cerchio che in qualche modo raccoglie specie che cominciano con la A davanti che sta per australopithecus o con la P davanti che sta per parantropus o altri nomi di genere che raccolgono appunto alcune varietà una specie di radiazione adattativa di scimmie antropomorfe bipedi nelle foreste frammentate prima e nelle savane poi dell'Africa orientale e meridionale la caratteristica che le accomuna è il bipedismo la nostra storia comincia alzandoci in piedi come sapete lusi oppure le impronte lasciate in un sito vicino al Serengeti che ci ritrovamo prima un sito che si chiama Laitoli forse avete visto queste impronte di esseri bipedi lasciati nelle ceneri vulcaniche di 3 milioni e 600 mila anni fa ma anche la morfologia quello scheletrino che vedete al centro è proprio quello della famosa lusi colmato di tutte le parti mancanti che sono quelle in bianco e vedete come soprattutto in alcuni distretti anatomici cruciali per la postura e la locomozione soprattutto il cinto pelvico cioè le ossa dell'anca e l'osso sacro è assolutamente paragonabile al bacino che abbiamo noi umani lo scheletro bianco sulla vostra destra è completamente diverso invece della caratteristica di uno scimpanzè che è invece lo scheletro giallogno sulla vostra sinistra quelli che vedete sulla sinistra ancora ancora più a sinistra sono delle rappresentazioni di ossa dell'anca cioè proprio del cinto pelvico viste dall'alto e vedete appunto la grande differenza che c'è tra quello in alto che è un scimpanzè e i due sotto che sono rispettivamente un australopiteco un essere umano cambia proprio l'architettura di questo distretto scheletrico perché effettivamente il bacino è proprio il perno della nostra postura retta del fatto che ci siamo alzati in piedi e questo è avvenuto già ai tempi dell'australopiteco alle australopitecine è capitato anche che gli cambiassero i denti cioè le pressioni selettive hanno portato a un cambiamento importante nella dentatura di questi nostri parenti estinti punto nel senso che le australopitecine varie specie e generi che abbiamo detto prima sono fondamentalmente come dicevo delle scimmie antropomorfe bipedi e con i denti strani per il resto ricordano ancora molto il possibile antenato comune con gli scimpanzè ma da questa varietà di scimmie antropomorfe bipedi gli arancioni che stanno in questo grafico i gialli gli ocra gli arancioni che stanno in questo grafico da questa variabilità a un certo punto compare una novità evolutiva se un cambiamento importante c'era stato qua giù verso i 6 milioni di anni con la comparsa dei primissimi nostri antenati un altro cambiamento molto importante è intorno a 3 2 e mezzo quando dalla variabilità delle australopitecine come le abbiamo chiamate fino adesso compare il genere omo un mesetto fa avrete visto nei telegiornali su tutti i media possibili raccontare diffusamente di questa nuova scoperta avvenuta in Sudafrica questa volta che è la scoperta del cosiddetto omo naledi c'è ancora in edicola un national geographic con in copertina il volto ricostruito di questo nostro possibile antenato è una scoperta straordinaria avvenuta relativamente per caso in un sistema carsico dalle parti di Johannesburg in Sudafrica dove due speleologi si sono molto magri molto piccoli di corporatura si sono infinati in un cunicolo di un sistema carsico quasi per caso sono scesi attraverso un camino lungo almeno una dozzina di metri tortuoso e in un punto estretto pare meno di 20 centimetri per cui è veramente una persona di corporatura molto minuta e facendo delle cortruzioni da acrobata è potuto passare di lì e arrivati in fondo a questo cammino sono arrivati in una stanza una grotta piena zeppa di ossa ossa di nostri antenati d'ossa con le caratteristiche di qualche cosa che possiamo riferire all'origine del genere omo la scoperta è straordinaria soprattutto perché sono tanti noi paleoantropologi siamo abituati a lavorare con un singolo cranio a volte un frammento di omero un dente una porzione uno scheletro semicopleto come l'usi è già una scoperta straordinaria qua in questa grotta dalle parti di Johannesburg di scheletri più o meno completi ce ne sono 15 e quindi c'è una variabilità che può essere studiata una variabilità anche dal punto di vista dell'accrescimento e dello sviluppo perché ci sono individui di varie età alla morte si può studiare il dimorfismo sessuale si possono fare delle cose che solo lì si possono fare solo di fronte a un campione come questo che è rarissimo nel nostro campo questa specie si è chiamata omonaledi come sapete dal nome di questa stanzetta carsica che si chiama dinaledi chamber e al momento la cosa che ci manca riguardo a omonaledi è la sua cronologia non c'è al momento un sistema di datazioni che possa essere utilizzato lì in quel caso per vari motivi che adesso non abbiamo il tempo di descrivere ora omonaledi però ha delle caratteristiche morfologiche nella sua variabilità insomma dentaria e ossea che giustamente richiamano appunto proprio le origini del genere omo dove delle forme simili all'australopiteco hanno acquisito però delle caratteristiche dentarie ancora nuove più o meno identiche abbiamo noi sono rimasti ovviamente bipedi il bipedismo però ha favorito l'uso delle mani per fare cose un po' più complicate che semplicemente rompere un ramo e quindi cominciare a costruire manufatti e soprattutto da questo momento in poi è cominciato a crescere il cervello quindi omo naledi si colloca per le sue caratteristiche morfologiche più o meno in quella fase lì che abbiamo detto intorno ai 2 milioni 2 milioni e mezzo di anni fa o forse poco dopo diciamo intorno a 2 milioni di anni fa quando vedete che di candidati all'origine del genere omo ce n'è più di uno è una specie di piccola radiazione adattativa nella più grande radiazione adattativa dei nostri antenati bipedi e qui si rinforza l'idea del cespuglio cioè del fatto che la nostra storia non solo è ramificata ma ogni ramificazione principale presenta tanti polloni dai quali solo uno ha poi il privilegio per così dire di dar luogo a fasi successive della storia questo passaggio è ovviamente cruciale dalla variabilità delle australopitecine compaiono degli esseri che non hanno una vita proprio divertente insomma quello che fanno è quello di procurarsi della carne attraverso l'utilizzo di carcasse di animali già morti non so origini particolarmente gloriose ma questo spostamento verso una dieta più ricca di carne non che fosse assente la carne probabilmente già ce n'era in parte c'è sicuramente nella dieta degli scimpanze una quota di carne e i scimpanze addirittura oggi vanno a caccia di tanto in tanto di piccoli primati di altri scimpanze alle volte i nostri antenati piuttosto che andare a caccia sfruttavano una risorsa alimentare disponibile nell'ambiente rappresentata dalle carcasse ancora non completamente sbranate cacciate da qualche grande predatore della savana un branco di leonese un leopardo e infilandosi come una specie di cuneo urlante e agitante bastoni e lanciante sassi e in una fila di altri animali saprofagi come possono essere quello sciacallo che se ne va o quell'avvoltoio che non si decide di atterrare i nostri antenati non certo a coppie come questa immagine potrebbe farvi pensare insomma ma a gruppi a bande questa immagine che a me piace molto d'altra parte è la rappresentazione pittorica di un diorama che potete andare a vedere al museo di storia naturale di New York dove appunto è rappresentata questa scena che è una scena chiave nella nostra evoluzione questo passaggio a una dieta più ricca di carne è il preludio a una serie di cose me ne cito solo un paio che sono l'encefalizzazione cioè l'inizio di un processo di espansione del cervello favorito da questa dieta più ricca più proteica e la produzione di manufatti che da questo momento in poi comincia a comparire sulla scena e dà lavoro ai miei colleghi archeologi perché qui compare il paleolitico il più antico paleolitico è di circa 2 milioni e 600 mila anni anche se ce ne sono delle tracce anche più antiche e da qui compare soprattutto una nuova posizione ecologica dei nostri antenati non sono più degli erbivori fondamentalmente onnivori sì ma fondamentalmente degli erbivori non sfruttano più di tanto le risorse vegetali ma salgono per così dire di gerarchia nella piramide alimentare di un contesto ecologico e in quanto per lo più carnivori tendono a espandersi geograficamente la loro espansione geografica è impressionante per milioni di anni i nostri antenati o parenti estinti erano rimasti per così dire confinati in Africa orientale dalle parti della Rift Valley o più giù in Sud Africa da questo momento in poi troviamo nostri antenati in tutta l'Africa e in tutta l'Eurasia è quella che Guido Barbujani che oggi non è qui avrebbe chiamato Out of Africa 1 cioè la prima diffusione fuori dall'Africa il titolo della sua conferenza era siamo tutti africani è vero perché da lì deriviamo ma poi a partire da questo momento ci siamo diffusi più e più volte e quella a cui assistiamo oggi nei telegiornali con quella gente che piglia le barche dalle coste della Libia o della Turchia e viene verso di noi in fondo ricorda questo tipo di processo perché la storia del genere uomo non più la storia dell'evoluzione umana comprese le australopitecine ma del solo genere uomo che è qui rappresentata in orizzontale mentre prima vedevamo il tempo in verticale vedete qua sono gli ultimi due milioni o poco più di anni è la storia di una serie di diffusioni geografiche e non è affatto neanche questa una sequenza di specie ma anche questa è una ramificazione complicata che deriva si vede la freccia? no? che deriva da una prima diffusione dall'Africa e che dà luogo alle specie che qui abbiamo rappresentato in blu e poi ce n'è una seconda che è quella che dà luogo probabilmente a una grande specie chiamata Homoedalbergensis che forse nei vostri libri ancora neanche viene troppo citata e infine la grande diffusione geografica nostra nel senso quella della nostra specie Homo sapiens comparsa in Africa nuovamente in Africa vedete qua siamo questa riga rappresenta l'Africa e il vicino oriente quindi un'ennesima origine africana per la specie Homo sapiens che in modo rapido così come era stata rapida la prima o la seconda diffusione geografica tende a diffondersi e questa volta su tutto il pianeta perché Homo sapiens raggiunge anche l'Australia raggiunge anche le Americhe Homo sapiens nel momento in cui si diffonde lo fa con i tempi che vedete rappresentati in questo schema dove K sta per migliaia di anni fa quindi 200.000 anni fa è l'origine della specie in Africa e poi la successiva diffusione riguarda un primo passaggio in vicino oriente e poi verso l'Australia 60.000 e poi verso l'Europa 45.000 e poi verso addirittura le Americhe passando per Bering che è intorno a 30.000 anni fa circa quindi una diffusione geografica straordinaria quella l'ultima di queste grandi diffusioni geografiche cioè quella arancione quella di Homo sapiens una diffusione che vede se guardate bene questo grafico nel momento in cui noi ci siamo diffusi noi Homo sapiens ci siamo diffusi erano presenti sulla terra altre specie umane non è un caso che si estinguano tutte in tempi rapidi perché diciamo Homo sapiens sgomita parecchio nel senso che è una specie piuttosto invasiva e in competizione adattativa con le altre sue sorelle di quell'epoca fatto sta che gli altri si estinguono per esempio si estinguono i Neandertal con qualche ibridazione che probabilmente c'è stata interspecifica ma fatto sta che poi alla fine il mondo si riempie soltanto di una specie e questa specie siamo noi arrivati all'inquietante numero di 7 miliardi di individui e oltre abbiamo delle grosse responsabilità da questo punto di vista ci siamo diffusi su tutto il pianeta e lo abbiamo praticamente coperto di corpi di grandi mammiferi che vivono in branco e cacciano e sfruttano le risorse ambientali in una maniera sempre più sfrenata anche se da un po' di anni decenni a questa parte qualcuno ha cominciato a mettere la testa a posto per così dire a cercare di trovare dei rimedi a questa scriteriata invadenza dell'uomo sull'ambiente una risorsa ce l'abbiamo è una risorsa che ha manifestato Homo sapiens sin dal primo suo apparire e che lo ha differenziato profondamente anche se non del tutto dai suoi parenti coesistenti le altre specie a quell'epoca viventi tipo i Neandertal e questa risorsa è la cultura una cultura fatta di simboli rappresentati da quelle straordinarie forme di arte rupestre da quelle veneri paleolitiche e questa cultura fatta di simboli è anche il linguaggio che io sto usando adesso per raccontarvi questa storia e questi simboli rappresentano forse la nostra principale risorsa la nostra cultura e voi siete qui per questo può essere la forza che ci tira fuori dal guaio nel quale noi stessi ci siamo messi che è quello di aver sovrappopolato questo pianeta di averlo sfruttato fin sopra quello che era insomma legittimo a meno che la cultura non faccia degli scherzi di questo tipo a proposito dei simboli e con questo vi ringrazio grazie